che ha lavorato sui temi dedicati al museo di MECA eccetera 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 insomma il MECA gruppo che si è concentrato qui abbiamo lavorato e poi suddiviso in quattro sottogruppi che hanno affrontato quei quattro temi uno legato a temi che sono di fatto stati richiesti dall'assemblea uno legato attraverso le domande dell'assemblea uno legato alla necessità di individuare una base teorica e pratica utile alla progettualità complessiva di questo progetto uno molto più focalizzato sulle questioni sociali legate al progetto un terzo era evidentemente puntato sui chiarimenti legati a scelte tecniche in modo particolare alle scelte legate alla pista ciclabile ma poi a si è trattata proprio di alto di ambiente eccetera e poi un ultimo, forse in realtà il primo dal punto di vista concettuale che è quello della filosofia di fondo cioè dello sforzarsi di ragionare sul trovare un'idea guida che possa in qualche modo legare questi vari progetti per come sono stati ripensati adesso chiedo ai quattro portavoce in qualche minuto di restituire alla platea i risultati grazie 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 grazie